Bari, chapeau! Il gol di Alvarez. Vittoria meritata del Bari, per l'ardore agonistico mostrato e per aver saputo controllare al meglio l'esfuriato di un avversario bisognoso di punti. Ori Biancorossi sono a meno 11 dal Lecce, che occupa il quarto ultimo posto e la salvezza sembra ancora una missione impossibile. Tuttavia il Bari avrà diversi scontri diretti, a partire da quello di domenica con il Catania a San Nicola. Dalle studi del sito web www.radio.info è tutto. Grazie per la cortesa e attenzione.